Il presidente della provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi, ha firmato il decreto che indice le elezioni provinciali per il prossimo sabato 18 dicembre. L'appuntamento per sindaci e consiglieri comunali in carica sarà dalle 8 alle 20 alla Cittadella dello Sport di via Montegleno. Attualmente il nuovo presidente durerà in carica 4 anni, dovrà essere un sindaco il cui mandato scadano prima di 12 mesi dallo svolgimento delle elezioni, mentre biennale sarà la durata del Consiglio. La data mette in moto una serie di operazioni collegate alle scadenze a partire dalla presentazione delle candidature prevista sabato 27 novembre dalle 8 alle 20 e domenica 28 dalle 8 alle 12. Ad oggi l'unico nome in corsa per la presidenza con l'obiettivo dichiarato di cercare l'appoggio delle varie forze in campo è quello di Pasquale Gandolfi, esponente del PD, sindaco di Treviolo e da poche settimane presidente facente funzioni di Via Tasso, dopo la decadenza di Gianfranco Gafforelli. Gandolfi ha già incassato l'apertura dal fronte della Lega in un'ottica di governo istituzionale. E in questi giorni, oltre a Carroccio, a centro-sinistra dei democratici e civici per la Bergamasca, sono in pista per costruire delle liste gli amministratori del gruppo Comuni Protagonisti, in cui convergono figure di Forza Italia, Italia Viva e i civici moderati che vedono in campo l'ex presidente Gafforelli. Resta da capire come si muoverà Fratelli d'Italia, che non ha nascosto di preferire un progetto di centrodestra unito, magari con un candidato presidente civico. Grazie a tutti.